L'olio di cocco si è un alleato molto utile nel processo di dimagrimento ma se noi non lo aiutiamo lui non fa da solo nessun miracolo perché all'interno suo ha una sostanza che aiuta a bruciare i grassi ma se noi introduciamo altro grasso e alimenti che aiutano la cellulite e il grasso lui non potrà fare questo suo dovere. Quindi affinché possiamo aiutare l'olio di cocco a farci bruciare più grasso dobbiamo mangiare equilibrato. Questo significa che dobbiamo avere una dieta completa equilibrata così come è dieta Gianina così come insegna io alle persone che seguo a introdurre cibi di qualità equilibrati senza restrizioni ma con criterio. Naturalmente io vi seguo tutti i giorni e quindi non potete sbagliare raggiungerete i vostri obiettivi fino in fondo. Quindi se volete aiutarvi con l'olio di cocco dieta equilibrata olio di cocco attività fisica serenità perché è la cosa più importante in qualsiasi obiettivo che dobbiamo raggiungere e costanza. Ciao!